Un incendio scoppiato intorno alle 6 di stamane a bordo di un yacht ormeggiato nel porto di Loano ha causato la morte di tre persone, due uomini e una donna di origine tedesca. Un'altra donna invece è riuscita a mettersi in salvo tuffandosi in acqua ed è ora ricoverata in ospedale sotto shock. Le fiamme, sulla cui origine difficile fare ipotesi, hanno avuto facile e immediata esca nel materiale plastico di cui era composta la barca, il Sautern Comfort di 22 metri, che da un anno faceva scalo nella marina del Savonese. Le tre persone morte sono state intrappolate dal fuoco nella cabina di prua e non hanno avuto scampo. Si tratta della sorella della donna sopravvissuta e dei compagni delle due donne. I vigili del fuoco coadiuvati dal Capitaneria di Porto hanno lavorato diverse ore per domare il rogo. L'imbarcazione è andata quasi completamente distrutta ed è semi affondata. Anche per questo, come ha spiegato il sostituto procuratore Massimo Bolla, le indagini congiunte di Carabinieri e Vigili del Fuoco, volte a accertare quanto accaduto, saranno particolarmente difficili. La guardia costiera, i vigili del fuoco e i carabinieri sono tutti impegnati per fare i primi accertamenti tecnici per capire le cause dell'incendio, cosa può aver innescato questo incendio. Sicuramente si preparerà un fascicolo per incendio colposo e omicidio colposo e poi dovremmo capire. Intanto dobbiamo anche identificare i corpi. È molto difficile perché il relitto parzialmente sta ancora bruciando, parzialmente è affondato e quindi bisognerà poi effettuare degli accertamenti tecnici molto mirati e specifici.